Seasley è da sempre sinonimo di indipendenza nella moda, nella vita, nella creatività e anche nella musica. Con questo tour ha voluto offrire un'occasione a queste band che affollano il panorama musicale italiano. Con Seasley Independent Tour 2012 tutti i gruppi musicali selezionati si potranno esibire in importanti piazze come questa di Rimini quest'oggi. Se vi piacciono i Beatles, gli Arctic Monkeys, i Cooks, gli Oasis, beh, Third Road Noise sicuramente fanno il caso vostro. A voi! Ottimi veramente, sicuramente non ci deluderanno anche The Dorman. Grazie a tutti! Grazie! 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 Grazie!